Chi vuoi? Uomini e donne, Paolo Crivellin sceglie, tutti i dettagli Uomini e donne, ecco quando sarà registrata la scelta di Paolo Crivellin. . Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Uomini e donne, video, il programma condotto da Cancelletto Maria De Filippi. In onda dal lunedì al venerdì, il format continua a riscuotere grande successo grazie soprattutto alla scelta dei tronisti. . Nelle ultime settimane ad incuriosire il pubblico è stato soprattutto il trono di Paolo di Crivellin e il giorno della sua scelta. Scopriamo insieme gli ultimi gossip sul giovane. Trono classico, chi sceglierà Paolo Crivellin?. . I telespettatori amanti del programma aspettavano la scelta di Paolo già prima delle feste natalizie. Purtroppo dopo il no di Sabrina Ghioa e la scelta frettolosa di Marciano, il pubblico attendeva con ansia quella dellex partecipante di Temptation Island. . Dopo lindecisione avuta fino a qualche giorno fa, il ragazzo pare si sia deciso a scegliere la donna della sua vita. Chi avrà fatto freccia nel suo cuore tra Mariana e Angela?. . Come fa sapere il portale News Wedi, la sua scelta sarà registrata il 18 gennaio 2018. . Nella scorsa puntata andata in onda su Canale 5, lex MR Italia come hanno potuto notare le fan se non era presente in studio e il motivo è stato spiegato direttamente da Maria. . La padrona di casa, infatti, vuole dedicare allex tentatore un'intera al giovane, visto il suo percorso non tanto facile fin dall'inizio. Chi porterà a casa tra la Cerno e la Caloisi? Angela e abbandonano il programma ma poi ritornano. . . Dopo lindecisione del loro tronista su una possibile scelta, Angela e Mariana hanno abbandonato il programma. La loro decisione di tornare a casa però, è durata molto poco, tanto che entrambe dopo un ripensamento, hanno trascorso un'intera giornata con Crivellin. . Chi avrà avuto la meglio sull'ex tentatore di Temptation Island? Stando ad un piccolo sondaggio, il pubblico pare sia a favore della napoletana Caloisi ma nessuno esclude un clamoroso colpo di scena finale. Adesso le fans, però, si chiedono quando andrà in onda la scelta visto che sarà registrata il 18 gennaio. Facendo alcuni calcoli e visto il divario tra le registrazioni, molto probabilmente il tutto sarà trasmesso nel mese di febbraio ma al momento ancora non si conosce una data. Cosa succederà? Per adesso è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Per tutte le altre news ed informazioni sul mondo dello spettacolo, video, e non solo cliccate il tasto in alto a destra accanto al nome dell'autore, segui. Ciao!